Sono andati, rimanendo un buco di 25 milioni di euro, non siamo andati dalle istituzioni a piangere, a dire ci dovete dare un lavoro oppure ci dovete dare degli incentivi, abbiamo detto solamente dovevano fare il proprio dovere, dovevano avvalere la nostra proposta, dovevano fare ciò che sono chiamati a fare, risolvere i problemi delle persone e questo gli abbiamo detto, voi siete pure abbandaggiati perché la soluzione ce l'abbiamo noi, alla loro provocazione perché, questo vi dico a chi si ascolta, cercano sempre di metterci delle difficoltà davanti a noi, abbiamo detto già è meglio trovare un altro venditore in quanto gli imprenditori sono più affidabili. La stava Luigi Sinto e io gli discusi, per noi non ci sono problemi, visto che noi conosciamo solo operai, i vostri amici sono gli imprenditori, però mi dovete far capire se gli imprenditori scappano con la tassa, gli imprenditori sfruttano la classe operaia, gli imprenditori pensano solo agli utili e pensano solo a massacare la classe operaia, dov'è questa affidabilità dell'imprenditore. Però l'abbiamo sfruttato su questo, il loro progetto era vuoto, volevano solo demoralizzarci, a questi siamo stati più forti, sono loro scesi sulle nostre condizioni e hanno dovuto prendere atto che il nostro progetto dell'autoorganizzazione della classe operaia era un progetto che doveva andare avanti. Si ci è voluto tenacia, inizialmente ci prendevano per pazzi, però quei pochi pazzi che siamo partiti, devo dire ad un'ultima verità si sono aggregati altri pazzi con noi, come Rifondazione, come partiti di Crac, come l'SRL che con la figura di Luigi Sito ha creduto più di noi dall'inizio, con Luigi Izzo che c'è venuta, io dico l'onore, a visitarci, a portarci la sua esperienza che era possibile, non erano noci, si danno a propria niente a quello che dicevamo, è possibile, è fattibile, solamente che il potere corte non mette in evidenza lì dove gli operai, la classe operaia si organizza, per loro cercano sempre di non dare massima visibilità a questo perché loro spaventano. Questo è quello che stiamo riscontrando, che loro si spaventano lì dove la classe operaia proletaria si uniscono perché lì realmente hanno più progetto, più tenacia e più trasparenza e anche più onestà rispetto ai padroni e riescono ad abbattere qualsiasi tipo di culo che loro mettono. A questo non è solo un invito che io faccio a chi si ascolta perché noi stiamo facendo un percorso, io dico, non è concluso, però comunque è solo la burocrazia che sta andando avanti, però comunque la partenza è come se già fosse scusa. Io dico che comunque tra poco apriamo e cominciamo a produrre, questo è un dato di fatto. anche se bisogna usare molta cautela su questo perché dobbiamo vigilare ancora di più perché loro cercano sempre di trovarci delle piccole difficoltà sulla loro burocrazia delle carte, però anche su questo devo dire la verità c'è una buona squadra intorno a noi che ci sta sostenendo su questo e c'è molta sensibilità anche da parte dei licenieri Dubò che non è venuto per i suoi motivi però di cui lo ringrazio dell'apporto che ha dato su questo. E il mio invito a chiunque non si devono analizzare che non vede una via di uscita per le sue problematiche è di non abbattersi, di fermarsi un attimo e di riorganizzarsi, di costruire veramente un progetto dove mette in contraddizione la parte predominante in questo momento, nella nostra città, in regione e nel paese. La parte predominante sarebbe questa borghesia e questo manipolo di persone.